È stata inaugurata a Foggia l'appuntamento con l'inaugurazione del 24esimo anno accademico della UniFG, alla presenza di diverse autorità e rettori di altre istituzioni universitarie, unitamente alla ministra dell'istruzione Bernini, intervenuta in videoconferenza. Nel corso dei vari interventi delle diverse anime universitarie si è parlato della forte evoluzione dell'Ateneo Dauno e anche, rilevate criticità nel campo della ricerca, è positivo il numero degli iscritti. Il rettore Dauno Muzio, nel corso del suo intervento, rilevato come questi primi mesi di mandato elettorale, siano stati difficili, caratterizzati da diverse anime, tutte portatrici di valori con aspettative e ambizioni da realizzare. Come rettore ho il dovere di condividere, ma soprattutto di prendere decisioni che mostrano spesso fermezza e coraggio, per spingere gli attacchi di chi evidentemente quel cambiamento lo temi. La ministra Bernini, in videoconferenza, ha detto che le mure delle università mai come ora sono abbattute rispetto alla città e ai territori che la ospitano. È importante creare un ecosistema della conoscenza che coinvolga tutti. L'Università di Voggia è giovane ed ha già fatto molte cose. Grazie. 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 Grazie.